Stai bene? Sì, molto bene, grazie. Ti è piaciuto? Sì. Perché a te no? Ah, sì, sì, mi è piaciuto, sì. Onestamente non è stato indimenticabile. Eh, no. Ma non so perché, eppure ti trovo molto simpatico. Io pure, sai. Ma non c'entra niente. È una questione di alchimia, di magia. Non si può spiegare. È per via del tuo ex? Pensi ancora a lui? Sì. No. Non è per quello. Vedi che in amore non funziona mai. Né nelle mie relazioni, né quando è inutile il sesso, non è il mio forte. Non hai ancora incontrato la persona giusta. Tutto qua. Sai che facciamo? Sì. Grazie.